Carissimi amici e amiche, un bravissimo video che forse non c'entra con le tematiche del canale, giunge la notizia della mostra di Silvio Berlusconi e certamente è una notizia che non può lasciare indifferenti, comunque la si pensi anche dal punto di vista politico, lui comunque è stato un personaggio che ha segnato un pezzo di storia nel bene e nel male del nostro paese, un personaggio carismatico, un uomo che comunque, da si pensi, ha creato tanto, diciamo dagli esordi nell'edilizia, alle tv private, insomma un po' tutto, allo sport, al Milan, ha fondato un partito politico, ha vinto delle elezioni, è stato premier, allora lo si è potuto criticare per tanti versi perché capisco che la politica, io non ho mai parlato di politica sul canale perché è un argomento che divide sempre, però di fronte alla morte di una persona che comunque ha segnato un'epoca lascia comunque sempre sgomenti, lascia sempre un'amarezza, una meraviglia, perché ciò ci fa pensare alla vita umana che comunque è a termine qualunque cosa si faccia, però diciamo ci sono personaggi e personaggi, Silvio Berlusconi è stato comunque un grande personaggio, un grande personaggio perché ha segnato un'epoca, comunque ha avuto delle implicazioni, ha avuto certamente tanti difetti, è stato impelagato in tante cause, centinaia di cause, dalle quali per altri è uscito quasi sempre assolto, però è ovvio che quando si è nel lagone politico bisogna tener conto anche che si hanno amici e si hanno nemici. Comunque sia è stato un personaggio che ha fatto cose che tanti altri non hanno fatto, fondando insomma la tv commerciale, con lui sono nati canali 5, dalle 1, dalle 4 che non esistevano, c'è stata una certa pluralità dell'informazione, ha creato bene o male veramente tanti posti di lavoro con le sue attività, ha creato dal nulla un partito politico, poi per carità ci sta pure chi dice tutto il male del mondo, io non entro perché io non sono mai stato diciamo un suo sostenitore in alcun modo, però vedo vedo l'uomo, ecco vedo l'emblema al di là di tutto, vedo il coraggio con il quale ha lottato contro questa malattia e si sapeva che c'era qualcosa di strano negli ultimi anni in cui entrava e usciva dall'ospedale, quindi come dire, un pensiero per lui, se avrà fatto bene o avrà fatto male nella sua vita, ci sarà un giudizio più alto di noi, che non compete a noi, però c'è il riconoscimento che se è andato una persona che ha fatto un pezzo di storia di questo paese, comunque dispiace, comunque la si pensi di dispiace, specie quando le notizie arrivano così all'improvviso, ecco, va bene, l'insegnamento deve essere soltanto che, ecco, non bisogna mai essere troppo attaccate alle vicende terreni, alle vicende umane, proprio perché siamo di passaggio sia se siamo milionari o miliardari e sia se non abbiamo niente, quindi l'importante è seminare del bene in questa vita. Quindi questo è il mio ricordo di Silvio Berlusconi, comunque un grande personaggio, un grande uomo, un grande imprenditore, un grande politico che ha fatto un'epoca, non era facile, lui nasceva non già figlio di miliardari, nasceva come figlio di un impiegato di banca e quindi già il coraggio di farsi costruire una vita, certamente godendo magari si appoggi di un certo tipo, però veramente ha fatto una vita costruendo cose incredibili, spesso essendo avanguardia anche di idee nuove e nuove ed è eccezionale, quindi un ricordo per lui e buon viaggio a Silvio Berlusconi. Ciao, un abbraccio a tutti quanti voi.